Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire parlando di sanità perché se cade il pilone della cattolica rischia di cadere l'intero ponte della sanità molisana, a dirlo è Monsignor Bregantini nel corso di una conferenza stampa indetta dai medici e dagli operatori della Fondazione Giovanni Paolo II. In due anni sono stati tagliati dal budget 5 milioni e mezzo di euro. E allora sentiamo in apertura Pasquale Di Bello. Mentre parla Monsignor Bregantini, arcivescovo della diocesi Campobasso Boiano, ha alle proprie spalle un ritratto della Beata Vergine, ma si capisce che ha un diavolo per capello, barba compresa. Se cade il pilone della cattolica rischia di cascare l'intero ponte della sanità molisana. Il sogno dell'integrazione tra pubblico e privato, dice l'alto prelato, rischia di infrangersi con conseguenze catastrofiche per la salute dei molisani e per il futuro di centinaia di persone. Duemila, tra medici, personale paramedico e indotto, precisano dopo il vescovo i medici della cattolica nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la curia di Campobasso, dopo l'ennesimo taglio di budget operato dal commissario ad acta per la sanità Paolo Di Laura Frattura nei confronti della fondazione Giovanni Paolo II. 2 milioni e 600 mila euro freschi freschi, tagliati con il recente decreto commissariale numero 63 e altri 3 milioni nel corso dell'anno precedente. Tutti i tagli effettuati a fine anno e con efficacia retroattiva a far data dal gennaio precedente. Abbiamo sbagliato a fidarci, hanno già scritto dalla cattolica. Adesso l'intervento del vescovo e dei medici della cattolica. Le soluzioni sono quelle di ritornare al tavolo delle trattative, di ritirare questo decreto del 23 di novembre, di rilanciare l'incontro e l'idea dell'integrazione tra cattolica e fondazione insieme con i cardarelli, che è la vera speranza. L'obiettivo è questo, non indebolire un pilone per poi avere il rischio che crolli il ponte, ma entrambi i piloni devono essere sostenuti e rafforzati. Questa è la proposta che noi facciamo. Parlando della cattolica, vogliamo coinvolgere tutte le strutture particolari che la parola correttamente definisce come sanità accreditata, quindi non privata ma accreditata. Alla cattolica nessuno paga come in certe strutture private che ci sono a Roma. Qui nessuno paga. Tutto è sostenuto dai soldi pubblici, però vanno ridistribuiti con maggior saggezza e miglior giustizia. Questo è ciò che noi chiediamo, ma soprattutto con quella lungimiranza positiva per cui quanto noi chiediamo, quello di unire insieme le due realtà possa essere veramente attuato. Avendo noi fatto delle spese in quest'anno e sendo arrivato questo taglio di 2 milioni e 600 mila euro alla fine dell'anno, siamo a rischio. Per cui sarà a rischio il paziente monisano e sarà a rischio il dipendente cattolica. La presa di posizione della cattolica si aggiunge al malcontento generale che ha accompagnato il piano di riordino della sanità varato da frattura. Un vero e proprio maradona dell'autogol capace di scontentare in un sol colpo operatori e strutture pubbliche e private e soprattutto i cittadini sempre più disorientati e inferociti. Parliamo ora di politica perché sono sempre più agitate le acque del Partito Democratico anche a livello locale dove si attende di conoscere l'esito della direzione nazionale in programma domani a Roma. Intanto va avanti il botta e risposta tra Danilo Leva e la segretaria regionale del PD. Ce ne parla Giovanni Di Tota. La notte dei lunghi coltelli è in programma per il pomeriggio di domani al Nazareno a Roma. È dalla direzione nazionale che dipende il destino più immediato dell'Italia e in ventesimi del Molise. Renzi proverà a mettere ai voti se tornare alle urne a febbraio estendendo l'Italicum anche al Senato. A innalzare le barricate sarà l'area Dem che fa riferimento a Speranza, Bersani e D'Alema. Solo dopo l'esito della direzione si capirà meglio quali saranno gli effetti nella periferia. Intanto le prime scaramucce sono già cominciate a poche ore di distanza dal risultato elettorale di domenica notte. Il commento più duro è arrivato dal deputato Danilo Leva, destinataria della richiesta di fare un passo indietro dopo quello che lo stesso Leva ha definito schianto fragoroso del PD, è stata la segretaria Micaela Fanelli. argomenti utilizzati dal parlamentare, l'idea fallita che la politica non può essere ridotta solo a gestione del potere, che l'arroganza non viene premiata e che occorre ricostruire un senso di appartenenza. Replica del segretario Fanelli affidata all'auspicio che Renzi può adesso contare su un patrimonio di 13 milioni di voti dai quali ripartire per cambiare l'Italia. Oggi Leva ha di nuovo tentato di riportare la segretaria sulla terra, nascondere la polvere sotto il tappeto, ha dichiarato il deputato, non serve a eliminare tutti gli acari dai quali la Fanelli è ormai circondata. La battaglia vera è chiaro, si gioca in via del Nazareno, ma la dispersione dei voti del centrosinistra più che degli altri partiti è evidente soprattutto nelle regioni guidate da questo schieramento e dai rilievi dei flussi elettorali del referendum elaborati dall'Istituto Cattaneo, l'emoragia del Molise è tra le maggiori rilevate. La percentuale degli elettori di centrosinistra che ha votato per il no è tra le più alte d'Italia. Nel caos calmo che si respira in queste ore spicca ancora più evidente il distacco dalla realtà di personaggi fuffa che hanno costruito la propria fortuna politica ed elettorale su uno dei periodi più confusi della storia repubblicana. E stavolta, a differenza di quanto accade di solito, il Molise, trattandosi di un aspetto tutt'altro che positivo, non costituisce un'eccezione. E parliamo ancora di referendum con i commenti dei comitati per il no secondo i quali il no espresso dagli italiani e dai molisani è stato soprattutto un voto politico, la bocciatura su tutta la linea del governo Renzi e di quello regionale guidato da Frattura. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. C'è soddisfazione tra i sostenitori del no che hanno votato contro la riforma costituzionale proposta dal governo Renzi, un consenso ampio che ha dato ben oltre le più rose aspettative. Finalmente è stata una scelta democratica, una scelta libera. Noi abbiamo fatto se nient'altro quello che è il nostro dovere, il nostro lavoro, quello di spiegare alle persone la motivazione del no spiegando il significato del voto. Questo è stato il nostro percorso che ci ha visto in 51 comuni presenti come movimento, come azione nazionale. Un movimento che chiaramente è partito da poco, un movimento che però si sta radicando sul territorio coinvolgendo direttamente i cittadini, con la partecipazione chiaramente attraverso incontri. Ecco, per noi il referendum è stato come dire un motivo di riportare il cittadino verso la politica e non far allontanare il cittadino dalla politica. Maurizio Tiberio, vogliamo dare una connotazione politica a questo voto? Ma si dovrebbe dare una connotazione politica. Renzi si è preso tutta la responsabilità di questa sconfitta e si è dimesso. Ergo, nel Molise il segretario regionale del PD dovrebbe dimettersi. Il presidente della giunta regionale quantomeno dovrebbe fare una verifica politica di quello che è accaduto. Ma come ho detto anche precedentemente, neanche se arrivano i carabinieri questi personaggi si dimettono. Quindi l'altissima affluenza che c'è stata per questo referendum ne dà una chiave tutta politica. La gente non voleva più Renzi, la gente non voleva più renzismo nei territori, tant'è che 18 regioni hanno detto di no. In questo quesito veniva proposto anche di mezzare l'indennità dei consiglieri regionali. Magari Renzi pensava di fare presa su questo per convincere anche i molisani a votare a favore. Il 61% dei molisani hanno detto ciaone a Renzi perché lui ci ha sbeffeggiato per tre settimane. Non ho sentito una voce, non devo essere certo io a difendere i consiglieri regionali, ma io devo difendere l'istituzione regionale. Fino a quando esiste la regione Renzi non si poteva e non si doveva permettere di poter utilizzare poi delle bufale perché abbiamo dimostrato che questa riforma costituzionale avrebbe inciso per circa 1000 euro lordi sulle monumenti dei consiglieri regionali. Poteva solo applicare l'articolo 69 della Costituzione, bastava una legge ordinaria, ma lui ha voluto fare il suo solito populismo e credo che la grande vittoria sia stata quella della semplicità contro l'arroganza di questi bigotti radical chic col portafoglio pieno che sedono nei salotti dorati. Voltiamo pagina e parliamo di scuole. Scuole sicure perché è stato fissato a Isernia per domani pomeriggio alle 17 l'incontro. Tra il comitato genitori e il prefetto si parlerà dell'emergenza relativa alle due scuole medie e all'istituto Fermi. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Scuole sicure a Isernia. La notizia arriva da Via Berta. Infatti la giunta provinciale ha deciso di chiedere alla regione 2 milioni e mezzo di fondi BEI per demolire il terzo piano dell'istituto tecnico commerciale Fermi in corso risorgimento. Il terzo piano, come si ricorderà, era nato in un secondo tempo sovrapponendosi ad uno stabile progettato per soli due piani. Il pericolo sollevato dal comitato genitori era quello che in caso di un violento terremoto potesse succedere la stessa cosa di San Giuliano di Puglia dove a provocare le vittime fu proprio il crollo della sopraelevazione dell'edificio scolastico. E la decisione dell'abbattimento del terzo piano del Fermi non resterà senza conseguenze. Infatti per effettuare i lavori bisognerà prima trovare un'altra scuola dove ospitare le centinaia di studenti che frequentano i vari corsi. Il presidente Coia conta comunque sulla disponibilità da gennaio del Fascitelli e poi nel recupero dell'istituto Cuoco. Insomma, per quando arriveranno i fondi, gli studenti potranno essere ridistribuiti. C'era anche un'altra idea, quella dell'assessore Giuseppe Di Pilla, per una nuova scuola incontrata a Nunziatella, su un terreno di proprietà della provincia e con un progetto già in possesso dell'ente. Ma alla fine è passata la scelta di abbattere il terzo piano del Fermi per non lasciare in stato di abbandono e degrado un relitto situato al centro della città. E si parlerà proprio della situazione del Fermi e delle due scuole medie nell'incontro col prefetto chiesto dal Comitato Genitori, che dopo la grande manifestazione popolare dello scorso mese non ha affatto abbassato la guardia e, al contrario, nella notizia dell'abbattimento, ha trovato ulteriore alimento per i propri dubbi sul Fermi, più volte sollivati in diverse occasioni. L'incontro con Fernando Guida è fissato per le 17 di domani e il Comitato si presenterà in Via Kennedy con due tecnici di fiducia e con il carteggio relativo alle due scuole medie. Verrà chiesto al prefetto di fare tutto il possibile per convincere l'amministrazione comunale di Isernia a cambiare il registro ed accelerare i tempi di decisione scelta per trovare una sistemazione provvisoria immediata agli studenti dell'Andrea di Isernia e della Giovanni XXIII. E qui si tratta di convincere il Comune a fare presto e c'è l'esempio che è arrivato da Cerro a Volturno dove il sindaco, Remo Di Anni, in soli due mesi ha risolto l'emergenza a scuole sicure e senza cacciare un centesimo di fonti pubblici facendo addossare ai privati gli oneri di sistemazione di uno stabile antisismico in cambio dell'affitto dei locali per due anni. Intanto, messi al sicuro scolari e studenti, Di Anni ha chiesto i soldi alla Regione per abbattere la vecchia scuola e costruirne una sicura. E se è stato possibile a Cerro a Volturno perché non provarci anche a Isernia? Risiede in provincia di Campobasso ma da tempo vive a Madone, in provincia di Bergamo il marocchino arrestato dai carabinieri che hanno trovato in casa 180 chili di hashish uno dei sequestri di droga più importanti effettuati nella zona. L'africano di 44 anni aveva addosso mezzo chilo di droga poi, dopo aver perquisito l'appartamento in cui risiede i carabinieri hanno trovato sei sacchi con dentro 30 chili di hashish ciascuno per un valore di 2 milioni di euro. Le immagini delle telecamere e della discoteca della periferia di Termoli davanti alla quale si è verificata l'aggressione ai danni di 4 ragazzi tra i quali un 23enne di guardia Alfiera rimasto gravemente ferito sono al vaglio della polizia per identificare e individuare i responsabili. Gli agenti, coordinati dal dirigente Vincenzo Sullo sono sulle tracce del gruppo di aggressori dopo le denunce presentate dalle famiglie. Torniamo a Isernia perché è alle battute finali l'accordo tra il Comune e la società subentrata ad esattorie SPA della famiglia Marcucci per la gestione della riscossione tributi. Una situazione molto delicata perché si tratta di scegliere il personale che poi verrà riassunto ancora Enzo Di Gaetano. Vertenza e sattorie alle battute finali l'accordo tra il Comune di Isernia e la nuova società di riscossione dei tributi subentrata all'azienda della famiglia Marcucci. Palazzo San Francesco sta definendo i dettagli dell'accordo e non si tratta di una questione da poco infatti bisogna ricercare un compromesso sia economico che occupazionale in quanto si tratta di riassumere in tempi brevi parte dei lavoratori delle ex esattorie SPA. Il Campobasso ha chiuso per il coattivo Termoli insomma che ci sono delle differenziazioni noi stiamo discutendo perché noi abbiamo prima di tutto un problema che riguarda il regolamento comunale per appunto contabile che prevede l'esternalizzazione solo di alcuni servizi quindi dovremmo fare una modifica al regolamento ma non è questo il problema principale che comunque ci rallenta un attimino. Stiamo discutendo alcune particolarità l'appalto o la concessione il versamento deve essere fatto nella cassa nella tesoreria direttamente del comune non della società la possibilità di avere un'assunzione maggiore di dipendenti ex esattorie che hanno una clausa sociale di salvaguardia e noi vorremmo cercare di aiutare un numero maggiore di ex dipendenti quindi stiamo lavorando su tutte queste tematiche c'è un percorso che stiamo concludendo la direzione è quella perché già il Consiglio Comunale tempo fa si era espresso indirettamente chiedendo la revoca di un precedente bando all'esterno quindi noi stiamo lavorando Entro fine anni ce la facciamo? Ma io spero proprio di sì perché noi con l'anno nuovo dobbiamo cominciare con un altro tipo di impianto per quanto riguarda i tributi del comune insomma con altre prospettive Ricorre oggi l'anniversario della tragedia mineraria di Mononga il disastro avvenuto il 6 dicembre nel West Virginia negli Stati Uniti ufficialmente persero la vita come è noto 361 minatori 171 dei quali erano italiani ma è probabile che furono molti di più tra le vittime 87 molisani provenienti da Duronia, Frosolone Torella del Sannio, Fossalto Bagnoli del Trigno, Pietracatella Vasto Girardi il Molise fu la regione italiana a pagare il più alto tributo di sangue proprio in quella tragedia ebbene oggi ricorre la giornata regionale dell'emigrazione tra le iniziative a Ferrazzano a Palazzo Chiarulli l'Associazione Pro Arturo Giovanitti con il suo presidente Antonio D'Ambrosio ha organizzato un incontro con i ragazzi delle scuole sono stati fatti vedere anche dei filmati tra cui il corto Ellis con la voce narrante di Robert De Niro C'è nuova vita per il Parco Comunale di Larino sono stati completati i lavori di riqualificazione dell'area verde che hanno coinvolto anche cittadini volontari ce ne parla Fabrizio Occhione Il parco si trova nella parte più alta di Larino da cui si può osservare un panorama suggestivo che abbraccia l'intero territorio l'area intitolata Giovanni da Casalbore è stata interessata da un intervento di restyling con l'obiettivo di restituire alla comunità un luogo più vivibile e funzionale giochi per bambini, cura delle piante, nuove luci e altri interventi di manutenzione un progetto che si inserisce nel piano di miglioramento delle aree verdi pubbliche e che ha visto la collaborazione dei cittadini come Alfredo, Antonio e Salvo che insieme ad altri hanno curato come volontari il parco con impegno e dedizione l'iniziativa è stata coordinata dagli assessori Michele Palmieri e Miriam Petriella Non è in realtà un nuovo parco è la riapertura di questo parco in via da Casalbore che abbiamo deciso e reso di nuovo fruibile ai cittadini perché era in completo degrado e abbandono siccome è una zona abbastanza centrale e ha una vista stupenda abbiamo deciso di fare qui l'installazione di tutti una serie di giochini nuovi e di renderlo fruibile anche dal punto di vista delle passeggiate con i cani perché abbiamo installato anche i cestini per le deiezioni canine sperando che i cittadini possano aver cura e rispettare questo ambiente Un'occasione, quella del simbolico taglio del nastro e della benedizione per consegnare anche il nuovo scuolabus e rinnovare la festa dell'albero con gli alunni dell'istituto comprensivo un momento di condivisione e di incontro sui temi dell'ambiente La tutela ambientale la messa a disposizione ai cittadini di spazi di vivibilità è un presupposto inerudibile di qualsiasi pubblica amministrazione non può non esserlo anche della nostra regione A crescimento e potenziamento delle competenze scolastiche di base la Giunta regionale ha stanziato un milione di euro per il progetto predisposto dall'ufficio scolastico del Molise un progetto, ha spiegato il governatore Frattura mirato a elevare le competenze di base degli studenti intervenendo in quelle materie in cui risultino più deboli con l'USR ha aggiunto abbiamo previsto la possibilità dell'ampliamento del tempo scuola con nuovi e ulteriori interventi didattici e laboratoriali e ora parliamo del Motor Show di Bologna perché stanno riscuotendo interesse tra gli addetti ai lavori e tra i visitatori i nuovi modelli proposti dalla DR la casa automobilistica molisana tornata in pista dopo aver superato le difficoltà causate dalla mancata acquisizione dello stabilimento ex Fiat di termini Imerese vediamo il servizio di Sergio Di Vincenzo per molti è stata la vera rivelazione del Motor Show di Bologna dopo qualche anno di assenza il brand molisano è tornato in pista sorprendendo la stampa di settore con le anteprime mondiali della DR3 DR4 DR Evo 5 DR6 e con il restyling della DR0 alla Kermes bolognese l'azienda guidata da Massimo Dirisio ha stupito perché nessuno o quasi avrebbe immaginato una rinascita dopo le difficoltà vissute da DR in seguito alla mancata acquisizione dell'ex stabilimento Fiat di termini Imerese e invece grazie alla rinnovata intesa con il colosso automobilistico cinese Ceri e il nuovo accordo con Jack altro gigante del settore auto in Cina DR ha riacceso i motori e portato avanti un incessante lavoro di sviluppo di nuovi modelli che insieme ad attente strategie di marketing e comunicazione ha permesso al brand molisano di presentarsi a Bologna con prodotti di grande appeal nettamente migliorati dal punto di vista della qualità complessiva a dirlo i tanti curiosi che hanno visitato lo stand della DR una bella macchina accogliente veramente anche come prezzo allettante ha il prezzo è il prezzo di un utilitario con una macchina molto grande non credevo qualità prezzo sicuramente freni ho notato adesso i freni a disco dietro che altre macchine hanno il tamburo carina veramente innovativa bello bel design veramente bello i nuovi modelli saranno commercializzati tra febbraio e giugno dell'anno prossimo nel frattempo l'azienda ha registrato numerose manifestazioni di interesse per l'apertura di nuove concessionarie DR in tutta Italia l'obiettivo è quello di superare quota 100 entro il primo trimestre del 2017 la fondazione Molise Cultura comunica che per problemi di salute sopraggiunti a Luigi De Filippo lo spettacolo Natale in casa Cupiello in programma al Teatro Savoia nelle serate del 7 e 8 dicembre è stato rinviato a data da destinarsi nelle prossime ore saranno rese note le modalità di rimborso dei biglietti di ingresso allo spettacolo e l'eventuale data di recupero dello stesso nella stagione in corso terza edizione dei mercatini di Natale di Ripalimosani nel centro storico del paese tra tradizione gastronomia divertimento immersi in un accogliente incantevole clima natalizio sentiamo Barbara Finò inaugurati nel caratteristico borgo di Ripalimosani alle porte di Campobasso i mercatini di Natale allestiti nel centro storico del paese tra luci colori musica natalizia e sapori locali numerose infatti le piccole botteghe artigiane che hanno proposto con l'avvicinarsi del Natale tante idee regalo oggetti legno di maglia di materiale riciclato e ancora piccoli presepi gioielli creati da artisti del posto non è mancata la tradizione tipica molisana con postazioni dedicate all'enogastronomia e quindi ai prodotti del nostro territorio tartufi miele formaggi e vini provenienti da tutta la regione una terza edizione quella dei mercatini di Natale che si presenta ai visitatori con numerose iniziative e tanti altri appuntamenti è un clima veramente fantastico un clima fiabesco direi che dà tante 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 emozioni infatti prima sono andato a vedere diciamo in anteprima la casa di Babbo Natale con le luci accese con la musica con il sottofondo musicale di Natale è stata un'emozione incredibile sono dovuto uscire perché già avevo un magone insomma in gola ed era una cosa veramente fantastica trampolieri giocolieri buffe comparse hanno caratterizzato la serata dei bambini giunti a ripa limosani per i mercatini di Natale tante attrazioni a loro dedicate anche nelle prossime date ci sarà Babbo Natale veramente ci sarà Babbo Natale il 18 quindi assolutamente soprattutto per i bambini di non mancare perché c'è il 18 arriva Babbo Natale e poi il 6 ovviamente arriva la Befana un'accoglienza tutta natalizia e dai sapori genuini che ha visto una partecipazione massiccia di pubblico e di espositori soddisfatto il sindaco di Bartolomeo per una edizione evoluta e che si evolve negli anni tengo a precisare che gli espositori non sono sempre gli stessi quindi durante i tre appuntamenti avremo prodotti diversi quindi c'è sempre una novità quindi chi è venuto oggi lo invito a tornare perché troverà sempre qualcosa di diverso qualcosa di interessante e con questi bellissimi mercatini di Natale Arriba Limosani termina anche l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise e vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete la nostra informazione buonanotte di Telemolise e vi saluto di Telemolise